Una massiccia operazione di soccorso nelle ultime 24 ore nel canale di Sicilia. Complice il bel tempo e le condizioni del mare ottimale, si sono infatti intensificati i viaggi della Speranza dalle coste del Nord Africa verso la Sicilia e la Calabria. In sintesi, 13 barconi stracarichi di uomini, donne e bambini sono stati soccorsi alle navi della Marina Militare e dalle motovedette alla Guardia Costiera. Già nella serata di ieri erano circa 1200 le persone salvate, 300 le persone a bordo dell'imbarcazione raggiunta in nottata. In particolare, due barconi sono stati soccorsi alla nave della Marina Militare. Complessivamente sono stati recuperati 482 migranti, di cui 25 bambini e 50 donne. Il pattugliatore Fulgosi ne ha salvati invece 274, tra cui 9 bambini e 6 donne. Due motovedette delle Capitinerie di Porto hanno poi recuperato insieme oltre 200 migranti, mentre la nave della Marina San Giusto ha soccorso 197 persone. L'altro ieri erano stati tratti in salvo 596 migranti, tra cui 103 donne e 62 minori, in due diversi interventi a sud di Lampedusa. Sono giunti questa mattina al porto di Augusto a bordo dell'unità della Marina che le ha soccorsi. Di immigrazione ha parlato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luigi Binelli Mantelli, secondo cui l'operazione Mare Nostrum ha contribuito in maniera determinante a limitare il traffico di esseri umani, con l'azione di contrasto da parte dell'unità militare e l'attività delle navi madri. Un'operazione che però ha esaurito il finanziamento straordinario, ed opera solo grazie al bilancio ordinario della Forza Armata. Finora esclusi gli ultimi soccorsi sono state salvate 12.228 persone e fermati 46 scafisti. È un impegno importante dal quale non credo, ha detto Binelli Mantelli, si possa uscire tranquillamente perché non può essere sottovalutato l'aspetto umanitario. C'è poi l'allarme criminalità, ci sono infatti connessioni ancora non evidenti, ma assolutamente certe tra trafficanti di vario genere e organizzazioni terroristiche. Grazie a tutti.